Bene ragazzi, questo è il primo video esercizio per quanto riguarda lo studio della dinamica. Vi dico già che esercizi del genere potrebbero avere la stessa difficoltà di problemi di università, nel senso che la dinamica molte volte viene spiegata abbastanza in modo casuale, senza un vero e proprio passaggio di step come noi invece abbiamo fatto, quindi spero che con quelli step noi riusciamo ad approcciare i problemi di dinamica sempre nello stesso modo e quindi la risoluzione sarà praticamente spontanea. E quindi dovete aver visto il video precedente in cui appunto spiego gli vari step da fare. Allora, e gli step sono quasi indipendenti dal problema in questione. Quindi so che era un video abbastanza lungo, quasi di 30 minuti, però dovete aver scritto bene il quaderno di teoria. Ora quindi riprendiamo gli step e cerchiamo di risolvere questo problema. Questo problema ha un nome, nel senso che si chiama macchina di Atwood, e sostanzialmente è quando ne abbiamo una carrucola, ok, che come sempre non ruota, perché altrimenti diventa molto complesso e le tensioni su questo filo e su questo filo sarebbero diverse, e noi questa cosa non la vogliamo. Quindi inizialmente, prima approssimazione, il corpo, la carrucola non ruota, serve solo per portare il filo da una parte e dall'altra, e con la macchina di Atwood, quindi abbiamo questa carrucola che non ruota, e dei pesi a destra e dei pesi a sinistra. M1 ed M2 pesano rispettivamente, hanno una massa di 2 kg e 3 kg, M3 di 8 kg. Quindi, va bene, la prima cosa da fare è appunto avere il disegno e disegnare le forze su tutti i corpi. Quindi, andiamo, partiamo dalla massa 1. La massa 1 sente. Allora, attenzione, bisogna disegnare tutte le forze, quindi sente P1, poi ovviamente sente questa forza di tensione, e poi sente questa forza di tensione fatta di un filo diverso, quindi la chiameremo T1. Ovviamente M1, M2, M3 non sentono N nella reazione vincolare, perché non sono appoggiati su nessuna superficie. Quali forze sente M2, ragazzi? Beh, sente il peso, peso 2, e poi sente una tensione. Come la chiamiamo, visto che appartiene allo stesso filo, e questa l'abbiamo chiamata T, anche questa sarà T, cioè non abbiamo altre incognite di tensioni. M3 cosa sente? Sente il peso P3, e sente la stessa tensione T1, uguale a questa qua, ok? Perché? Perché fa parte dello stesso filo e la carucola non ruota. Quindi abbiamo tre corpi, e avendo tre corpi mi posso aspettare al massimo, se faccio tutte le condizioni, se incognite, però poi vedremo una cosa qui importante, nel senso che, come non c'è attrito, quindi anche lo stab dell'attrito salta, adesso la cosa da fare è trovare il verso del moto, e quindi poi dell'accelerazione. Allora, qui avendo un po' di coniezione, visto che M3 come massa supera quella di M1 ed M2, non ci vuole un ingegnere per capire che il moto sarà fatto così. Cosa molto importante, perché se noi indoviniamo il moto giusto, ci verrà un A positiva. Noi, infatti, in questo problema, vedete che io non ho ancora detto cosa bisogna trovare, ma adesso io potrei, l'ho scritto, però potrei andare avanti nel problema senza neanche guardare cosa devo trovare. Nel senso che ho le tre masse, e quindi adesso devo fare il diagramma di corpo libero. Quindi, sostanzialmente, si potrebbe anche, diciamo, non disegnare di nuovo, ma io preferisco rifarlo, quindi vado a fare i diagrammi di corpo libero. Allora, M1, che sente, questa, so che è un po' un copione, ma è molto utile, soprattutto, ragazzi, per andare a disegnare A, nel senso che qui A, visto da il corpo rosso, va verso l'alto. Poi, quello blu, quindi, M2, anche per M2, A va verso l'alto, e lui sente P2 e T, mentre il viola vede, vedete qui, un A che va verso il basso, e sente P3 verso il basso e T1 verso l'alto. E quindi vado a fare il mio bel sistemone, dove qui metterò parallelo 1, parallelo 2, parallelo 3, concettualmente anche i perpendicolari. Poi vediamo cosa succede. Allora, direzione parallela 1, quindi quella rossa. Allora, visto che T1, T e P1 sono tutti paralleli ad A, e T1, vedete, è concorde, allora scriverò, per il rosso, più T1, meno T, meno P1, uguale a M1 per A. Sul parallelo 2, allora, vedete, T è col più, P2 è col meno, quindi più T, meno P2, uguale a M2 per A. Vado sul viola, adesso vedete che un po' lo direbbe più T1, invece, vedete, A va verso il basso, quindi è P3, ecco il più. Più P3, meno T1, uguale ad M3A. Ragazzi, vedete che non c'è nessuna forza perpendicolare in nessuno dei tre corpi? Quindi, qui non succede niente, sarebbe concettualmente 0 uguale a 0. Quindi, in realtà, tre righe sono soffocate, e quindi significa che io ho tre incognite. Tra l'altro, avendo le masse, e sapendo che il peso non è nient'altro che Mg, io, anche senza guardare cosa mi chiede il libro, io so che le mie incognite saranno A, T e T1. Cioè, ho tre incognite, e infatti cosa mi chiedeva il libro? Trova le tensioni e l'accelerazione dei tre corpi. Cioè, ragazzi, è banale, ok, questo esercizio. E adesso cosa facciamo? Allora, vi faccio vedere. Beh, questo non è difficile, nel senso che, intanto, i pesi, io so quanto valgono in modulo perché valgono M per G. Quindi, in realtà, vado a cambiare la forma di questo sistema, perché questo sistema diventa così. Allora, T1 meno T, allora meno, peso 1 quanto vale? M1 per G, uguale a M1 per A. Poi, la seconda è T meno M2 per G, uguale a M2 per A. E la terza è P3, quindi M3 per G, meno T1, uguale a M3 per A. Allora, arrivate a questo punto, come potete vedere, uno dice, ma il sistema in realtà non è difficile. Però, se uno guarda la prima riga, ha tre incognite, T1, T ed A. Se guarda la seconda, ha due incognite, T ed A. E se guarda la terza, ne ha due, che sono T1 ed A. Allora, suggerimento. Metodo della riduzione. Questo vi salverà la vita in tantissime occasioni, perché ci sono, ragazzi, tante forze di azione e reazione. Ad esempio, vedete che c'è meno T più T più T più T1 meno T1. Allora, il metodo della riduzione, ragazzi, si fa sempre così. Se noi dobbiamo trovare A, io vado a fare, vado a dire, che vado a cancellare una delle due rig... diciamo, la riga più difficile, quella che contiene più incognite. Qual è la riga più difficile? Qua è la prima, perché ha tre incognite. Bene, allora, le altre due le scrivo... Vedete che non ho ancora sostituito la massa. Quindi, quando avrò lungo la direzione parallela tante incognite, la riga più difficile la sostituisco al posto di che cosa? Allora, così. La prima riga sarà fatta così. La somma di tutte queste quantità, quindi la somma di tutti i primi membri, uguale alla somma di tutti i secondi membri. Uno dice, oh mio Dio, è gigantesco, no ragazzi? È facilissimo. Sapete perché? Perché allora, concettualmente, dovrei scrivere t1-t-m1g più t-m2g più m3g-t1. solo che qui c'è un mare di roba che va via. Perché se questo primo membro, io vado a sommare tutte le forze, ok? Una, dai, una volta ve lo faccio anche vedere, però poi capite che c'è un mare di roba che va via. Quindi se io adesso faccio la prima riga più la seconda riga, quindi t-m2g, più la terza riga, quindi più m3g-t1, uguale a che cosa? Alla somma dei secondi membri, quindi m1a più m2a più m3a, ragazzi, si fa sempre così, quindi bisogna un po' prendere l'esperienza. Vedete che le forze di azione e reazione vanno tutte via, perché avrei meno t più t più t1 meno t1. Vedete? Quindi potete fare così, ma va via, tutte le forze di azione e reazione vanno tutte via, e quindi nella prima riga qui adesso ho solo un'incognita che ha. Vedete? Io so tutte le altre cose. E tra l'altro io non ho ancora sostituito niente. Vedete la bellezza del calcolo letterale? E quindi andiamo tranquillamente a trovare a dalla prima riga. Scrivo un po' meglio, nel senso che allora qui viene meno 2mg più m3g e cancello questa cosa qua, quindi poi a occhio, chi la vede è fortunato. Qui vedete che ho m1a più m2a più m3a, quindi raccolgo una a e qui viene m1 più m2 più m3. Chi fa i conti poi noterà che questa struttura rimane sempre. Però che abbiate capito la potenza, perché io non ho voglia di fare le sostituzioni nei sistemi. E in questo modo ce l'ho fatta, perché a questo punto io per trovare a, ragazzi, come faccio? divido di qua e di là, guardando la prima riga, per m1 più m2 più m3, che poi è semplicemente la somma delle masse. Quindi divido qui per m1 più m2 più m3. E quindi trovo dalla prima riga che l'accelerazione non è nient'altro, vediamo, che allora a denominatore ho appunto la somma delle tre masse e sopra vedete che c'è ggg, quindi raccolgo una g e sopra ho meno m2 meno m1 più m3. E non ho ancora messo nessun numero. Adesso però ce lo metto. Nel senso che allora m2 fa 3, m1 fa 2, m3 fa 8, quindi viene aperta la tonda meno 3 meno 2 più 8 fratto la somma delle masse 3 più 2 più 8 per g che vale 9.81 m2 quadrato. Vabbè, quello era tutto in chili. E quindi adesso con la calcolatrice vado a calcolarmi l'accelerazione. tanto meno 3 meno 2 fa meno 5 più 8 quindi sopra viene 3 diviso la somma delle masse fa 3 più 2 5 più 8 13 per 9.81 m2 quadrato. E quindi viene 3 diviso 13 per 9.81 2.264 m2 quadrato quindi ho trovato a benissimo quindi significa che dalle altre due righe troverò le altre cose nel senso che adesso allora guardando ragazzi la seconda riga sostituisco tutto quello che so vabbè dalla seconda riga posso trovare t vabbè porto di là vedete m2g quindi diventa m2a più m2g ma adesso io conosco tutto perché g ce l'ho a ce l'ho ok quindi la tensione farà allora m2 ragazzi quanto vale m2 vale 3 quindi viene 3 per l'accelerazione che ho trovato prima quindi 2.264 più 3 per 9.81 viene una tensione di 36 punto se teniamo tre cifre decimali 222 sì 36,222 newton perché è una tensione e a questo punto vado a trovare vedi quindi ho trovato la prima incognita ho trovato la seconda incognita adesso dalla terza riga vado a trovare la terza incognita che è t1 quindi intanto sposto di là quindi viene m3a meno m3g cambio segno ovunque quindi cambio segno cambio segno cambio segno e vado a trovare t1 facendo meno allora m3 ragazzi vale 8 per l'accelerazione che vale 2.264 più m3 vale 8 per 9.81 viene una tensione di 60,368 newton e questo è già un esercizio complesso ragazzi è già un problema universitario però dove era la difficoltà forse un po' nel trovare A col metodo della riduzione però è bello non ho dovuto fare nessuna sostituzione quindi col metodo della riduzione si trova A e poi si trovano le altre cose bellissimo questa cosa qua e quindi niente sono andato a trovare l'accelerazione dei tre corpi e le tensioni e direi che l'esercizio quindi è completamente finito grazie a tutti